Questa è una storia di riscatto femminile, ha per protagonista una ragazzina di 15 anni nella Sicilia dei primi anni 60 che subisce un corteggiamento che diventa sempre più molesto da parte di un giovane del suo paese e quando lei oppone un rifiuto a questo corteggiamento sempre più insistente, la risposta di quest'uomo è quella di farla rapire, di prenderla con la forza, di violentarla contando sul fatto che all'epoca in Italia esisteva ancora una legge chiamata matrimonio riparatore che permetteva agli uomini che facevano violenza sessuale di sposare la donna che avevano violentato e non subire le conseguenze penali del loro gesto. Le ragazze molto spesso accettavano questo matrimonio perché si sentivano disonorate, perché avevano paura del giudizio sociale. Questa ragazza, la protagonista del mio romanzo invece, rifiuta. Non accetta di sposare il suo violentatore e decide anzi invece di denunciarlo. La cosa secondo me interessante di questa storia è che la mia protagonista, Oliva, non è una ribelle, non è una rivoluzionaria, non è animata da ragioni politiche, ma del tutto umane. Il suo no è un no che parte da dentro di lei e del no di chi non riesce più a fare neanche un passo avanti nella direzione dell'ingiustizia e del suo cruso. E io credo che sono proprio questi no che danno l'avvio alle più grandi rivoluzioni. Sono dei no rivoluzionari perché innescano una reazione a catena e diventa un esempio per tante altre persone. Questo romanzo è ispirato in parte a una storia vera di una ragazza italiana che si chiamava Franca Viola che effettivamente rifiutò il matrimonio riparatore e dove poi affrontare il processo e come spesso accade ancora oggi purtroppo le donne che denunciano una violenza sessuale vengono messe a processo come se fossero loro le colpevoli, come se dovessero dimostrare la propria innocenza e così accade all'epoca, così accadeva all'epoca e così purtroppo accade spesso anche oggi. In quell'Italia degli anni 60 e fino al 1981 esisteva la legge del matrimonio riparatore che tutelava gli uomini che commettevano violenza sessuale ed esisteva anche un'altra legge terribile che si chiamava delitto d'onore che tutelava gli uomini che uccidevano le loro donne per un reale o presunto tradimento. Credo che quelle due leggi che sono rimaste nel codice penale italiano per tanto tempo, poi fino a 40 anni fa, siano un po' un antecedente anche del fatto che oggi c'è ancora tanta violenza di genere e del fatto che il cosiddetto femminicidio in Italia sia una piaga. Tante donne ancora vengono uccise, forse proprio perché esistevano delle leggi fino a non moltissimo tempo fa che tutelavano gli uomini a svantaggio a scapito delle donne come se la vita delle donne, il desiderio delle donne, la dignità delle donne fossero considerate dalla legge e dallo Stato inferiori rispetto a quelle dell'uomo. Ho scritto questo libro perché avevo bisogno di fare un passo indietro nel passato, recente, per capire meglio la situazione della donna oggi nel mio paese ma anche a livello internazionale perché non mi sembra che ci siano moltissime differenze purtroppo. Credo che ci siano stati tantissimi passi avanti grazie ad ognuno di quei no che sono stati detti nel corso dell'epoca, nel corso del tempo.